Bella ragazzi, rieccoci qui in un nuovo video di Fortnite. Raga, siamo qui perché oggi vi mostrerò dove trovare la stella segreta della settimana 6 del pass battaglia stagione 5. Raga, le sfide non sono ancora uscite, mancano ancora un'ora, 12 minuti e 20 secondi. Quindi andiamo in singolo e ci vediamo esattamente come nostro solito sopra la città nella quale si troverà la stella segreta. Let's go guys! Ok, raga, la stella si troverà, come potete notare, a rapide rischiose. Allora, qua non credo di arrivarci, infatti, lo sapevo io. Ok raga, la stella segreta della settimana 6 si troverà esattamente qua raga, su questa macchina qua. Un video brevissimo appunto per farvi vedere dove si trova la stella segreta della settimana 6 raga. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto, commentate, iscrivetevi, mettete like. Io vi do appuntamento tra due orrette con una nuova live dove completeremo insieme le nuove sfide. Quindi vi ricordo, stella segreta della settimana 6 che non è ancora uscita per quello che non si vede, perché ancora non sono uscite le sfide della settimana. Quando le avrete completate tutte, venite qua e troverete la stella segreta della settimana 6. Raga, io vi saluto, ci vediamo dopo. Bella ragazzi! Ciao!